Un pezzo per voi, è famoso, quindi se volete applaudire... ...e questo pedro per me... ...I can't use it anymore... ...It's getting dark, too dark to see... ...I feel I'm knocking on heaven's door... ...I'm 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 knocking on heaven's door... Mamma puttie sconsi in a cron I can't shoot them anymore The big black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door 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 Di che cosa parla questa canzone in due secondi? Parla di lui che bussa le porte del paradiso Perché è giunto il momento e quindi... Allora, mi sono commosso la... In un periodo di guerra sentire questa voce con questo talento, questa pacella così bella mi sono commosso Grazie